Novità in tema di dazi doganali per produttori di liquori e di birra abruzzesi in particolare. Se ne parla oggi in questo convegno in Camera di Commercio Direttore, cosa è cambiato e quali sono le novità? Dal primo maggio è entrato in vigore il nuovo codice delle dogane, quindi oggi l'agenzia delle dogane col suo direttore di Pescara e con alcuni funzionari di tutto il comparto regione Lazio, Abruzzo e Molise ci illustreranno queste novità per i licorifici e i micro birrifici che sono circa una sessantina in Abruzzo. Si tratta dunque di attività importanti, anche renditizie e che vedono la nostra regione all'avanguardia. Stiamo parlando di micro birrifici e stiamo parlando soprattutto anche di licorifici. Le novità di questo settore sono quelle che già in parte sono in essere, una sempre più spinta a informatizzazione che ci porta addirittura da ultimo ad aver implementato un ulteriore passaggio informatizzato circa l'assegnazione dei contrassegni. E comunque l'agenzia in questo settore sta investendo fortemente nella formazione e nell'informazione degli imprenditori, dei piccoli imprenditori, perché è un settore che veramente ci può dare tanto. Nel complesso di una micro ripresa che anche in Abruzzo si sente, il settore agroalimentare, il settore della piccola azienda, della piccola impresa, questi settori sono quelli che stanno effettivamente crescendo di più.